Henry Davidson ha bisogno di rilanciare il progetto Li-Wire, la moto elettrica capace di 235 km di autonomia con 105 cavalli di potenza nominale e 115 Nm con un costo che si aggira intorno ai 34.000 euro quindi sicuramente non accessibile per tutti. Infatti quelli che poi l'hanno prenotata, comprata in realtà sono tutti già possessori di Henry Davidson mentre la casa di Milwaukee sperava che potessero avvicinarsi un po' di utenti giovani però evidentemente 34.000 euro non sono per tutti, soprattutto per i giovani. Poi ci si è messo anche il problema della ricarica in queste settimane abbiamo letto che gli store hanno invitato i clienti a caricare la moto presso i concessionari perché attaccata alla rete elettrica poteva creare qualche problema ma sicuramente è una cosa che rientrerà al più presto. Un investimento importante, 1,6 miliardi di dollari intorno all'highwire che deve rappresentare, rappresenta il rilancio della casa di Milwaukee però abbiamo visto a EICMA finalmente la versione definitiva della Pan America dopo le due stagioni proposta in versione concept arriva questa enduro stradale tuttofare c'è un trailer che la vede anche in fuoristrada, in un bel fuoristrada, poi staremo a vedere ed è questa l'idea che Henry Davidson ha di questo tipo di moto che rappresentano in Europa una mission importante per tanti costruttori europei e poi arriva anche la Bronx, questa Naked che fa il verso alle moto anche giapponesi se vogliamo, anche italiane, che rappresenta proprio la moto entry level della gamma Henry Davidson